Taina Santos Taina Santos per mai De palla a Taina Uno, due Si prepara Taina Santos con il suo destro Non trova abilmente a scaricarlo di forza Così è Fa gol Taina Santos D'altronde Danilo quando poi dopo Si mette in quel tipo di posizione La palla si sono giocatrici Assolutamente, da quella distanza Una giardizia come Taina è pericolo giusto Tiro Rete È gol Taina Santos Da Ina Santos È il gol della Ternana Uno a zero E Torchescaia il suo macete La sua impudine E approda ad otto gol Capocannoniere in questo momento della Ternana La brasiliana con il numero dodici Sulle spalle Davvero grande botta Di Taina Santos Coppari Coppari in laterale È il gol Gol La palla aveva oltrepassato la linea La palla aveva oltrepassato la linea La palla aveva oltrepassato la linea Coppari Il tiro E il raddoppio della Coppari Raddoppio della Coppari 2 a 0 Il punteggio Taina Santos E Coppari E poi c'è il salvataggio Di Taina Santos Che toglie il pallone Nelle 2 a 1 Dai piedi Del numero 22 Coppari E poi c'è il salvataggio Per la Donati Che realizza Il terzo gol Parle a 0 Per la tervana femminile Con Donati Che realizza Un bel gol Che bellissimo Rigore Calcio di rigore Netto 2 a 0 Per Taina Santos E Laterali dentro Attenzione Rete Taina Santos Di prima In scivolata Davvero bello Il pallo laterale Come Un fulmine all'improvviso Il cielo era sereno Renatigna Si porta Già a casa Il primo pallone Con la tripletta Belligrini ha chiamato Alla pressione Scuole Perve Santos Santos Uno contro uno Trova Santos Il tiro E il gol Il gol Di Taina Santos Che rimette La situazione In parità Con un tiro Potentissimo Sotto La traversa Dove Tardelli Non riesce Non riesce Cesaretto Trova solo Santos Santos Che trova A sbaccarsi Le due C'è anche Il suo Secondo gol Giornaliero Siamo sul risultato Di 4 a 0 Garziano 1-2 Nega Nega Che trova L'appoggio Per Santos C'è il terzo gol Rosso-verde Fatto da Taina Santos Taina Santos Numero Di Taina Santos Pallo Della Numero 9 Per le gambe Per Maite Maite Palla sopra Per Santos Taina Trova A giocare Un'agrobazia Ed è rete Taina Santos Per la Ternana Scarica il destro Sotto la traversa Maite Bellissima Inbucata Gran gol Di Taina Santos Ma che giocata Signori Questo è il calcio A 5 Ed eccola qui La Ternana Di Taina Santos Attenzione Palla corta E adesso ci dovrebbe Essere la munizione È giusto Palla sopra Buonissimo Santos Al volo Grande gesto Atletico Serve Santos Santos Uno contro uno Prova Santos Serve Santos Santos Uno contro uno Prova Santos Il tiro E il gol Il gol Chiude Giocatrice Veramente completa E fischia poi Il fallo Fischia poi Il fallo Su Bertè Ammonita Santos Forse per un fallo Maite Bellissima Inbucata Gran gol Di Taina Santos La pittata Generale È stata quella Di Maite Maite C'è La grossissima Opportunità Per la Santos Che non riesce A mettere dentro Buonissimo Stiamo ad andare avanti Taina Santos Che cerca di imparcarsi La prima E ci riesce C'è anche la seconda Ma ci riesce C'è il secondo fallo Santos Alla pattuta La sua ricotta E la tiro E c'è la La formula Le parata Da parte Del corchiere La storia Va a scriver La sua ricotta La sua ricotta La sua ricotta La sua ricotta